Maggiori controlli alle frontiere, indennizi agli agricoltori e potenziamento della ricerca sono questi i tre punti principali della risoluzione comune sulla xylella fastidiosa approvata a larga maggioranza dal Parlamento UE. Il commissario europeo, Vitenis Andrew Kaitis, intanto, ha annunciato che sarà in visita in Puglia il 22 giugno nelle zone colpite dalla xylella. Da tempo avrebbe voluto verificare di persona la situazione degli olivi di Puglia malati di xylella, ma per motivi di salute non era riuscito nell'intento. Il Parlamento europeo, intanto, quindi riunito in seduta plenaria, ha approvato la risoluzione proposta dall'eurodeputato del PD Paolo De Castro, con la quale si chiede alla Commissione di rafforzare la decisione del 28 aprile con un più forte controllo delle frontiere UE, visto che non siamo stati capaci di intercettare il batterio. L'Eurocamera chiede inoltre più attenzione alla ricerca con maggiori fondi per riscoprire come contrastare la xylella fastidiosa e aiuti agli agricoltori che, insiste De Castro, non hanno alcuna colpa, stanno pagando conseguenze di danni e costi aggiuntivi. Per loro vogliamo un aiuto concreto. Sulla battaglia per il contenimento, l'ex presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo considera molto dure le decisioni sugli abbattimenti presi dal Consiglio europeo, ma, spiega, vanno applicate in maniera molto seria, dando la possibilità in zone in cui bisogna convivere, come nella provincia di Lecce, di contenere l'espansione del vettore con le buone pratiche agricole, non con la chimica. Gli USA, conclude De Castro, investono 40-45 milioni di dollari all'anno da decenni per sconfiggere la xylella. È ambizioso a pensare che in pochi mesi o in pochi anni l'Unione europea possa dare una risposta. Al tempo stesso, assicura, agendo sull'insetto vettore, si può limitare del 90-95% la propagazione del batterio.